Italia in Rosa, decima edizione, c'è tutto, tutto pronto, Luigi Alberti, presidente del comitato che organizza questo evento, l'evento a livello nazionale, l'arrestimento alle nostre spalle, il castello di Moniga è qui, il lago, la veduta meravigliosa, in modo che uno può avere, assaggiare dei chiaretti e guadersi anche il panorama, ecco, l'importante è il decimo anniversario, una volta appena iniziato, non ero sicuro neanche di arrivare alla fine della prima edizione, siamo arrivati a 10? Siamo arrivati a 10, credo con grande entusiasmo, ma soprattutto con un grande risultato, noi volevamo aprire una storia diversa, che era quella di valorizzare sempre di più chi ha retto del nostro territorio, ma farlo attraverso un confronto con i vini rosati d'Italia, ci siamo arrivati, devo dire che questo risultato già da due o tre anni l'abbiamo, ma quest'anno il risultato è grandioso, perché abbiamo 150 cantine, 210 tipologie di vini, ma il dato forte e importante è che abbiamo cominciato ad intrecciare con altri consorsi d'Italia questo intreccio e quindi non vengono più le singole cantine a descrivere, ci sono singole cantine, ma ci sono consorsi che rappresentano ad esempio come la Puglia 28 cantine, la Toscana 18 e questo è proprio il risultato che noi volevamo, creare un sistema affinché il nostro prodotto della Valteneri fosse sempre più valorizzato, ma contemporaneamente tutti i rosati d'Italia riprendessero con forza una china che nel passato era stata difficile. oggi il vino rosato sta raggiungendo in termini di vendite e di degustazione i vini bianchi d'Italia. ovviamente creano i problemi perché lo spazio diventa ristretto, però il sindaco ha già preveduto perché ha acquisito un po' di terreno qui davanti al castello, quindi per i prossimi anni non c'è problema. Luigi, ovviamente tu sei il presidente del comitato organizzatore, hai dei collaboratori, non li presentiamo tutti perché poi magari dimeggiano qualcuno, però un rappresentante? Sì, un rappresentante sicuramente ve lo presento. Il prossimo anno che è qui con me e devo dire che da dieci anni è il mio braccio destro ma soprattutto è l'uomo che mi risolve tanti ma tanti ma tanti problemi e quindi voglio dirgli un grazie davanti ai nostri telespettatori eccetera. E per quanto riguarda il futuro io credo che già dal prossimo anno la nostra tendenza è quella di utilizzare anche lo spazio sotto, magari attraverso proprio la messa in opera di alcuni eberson molto caratteristici e belli in modo da rendere sempre più piacevole questo grande appuntamento. Viva il Chiaretto? Direi viva il Chiaretto, direi viva il Chiaretto perché se lo merita, Moniga è la città del Chiaretto e si merita uno spettacolo di questo genere. Noi nel 2011 abbiamo preso il premio del miglior progetto d'Italia, dei vini rosati e dei vini generali e quindi questo rimane come un aspetto importante per la realtà del comune di Moniga.